Top 5 settimana 32 2017, i migliori articoli di Android Blog Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 settimana 32 2017. 1, Oneplus 5 riceve l'aggiornamento alla Oxygenos 4. Iniziamo la carrellata della Top 5 settimana 32 2017 con Oneplus che non trova pace. L'aggiornamento alla Oxygenos 4.5.7 ha introdotto delle novità molto interessanti e dei boom fix importanti ma la società ha deciso poi di bloccare immediatamente il roll out per un bug e ha rilasciato in tutta fretta la Oxygenos 4.5.8. Speriamo che questa sia la volta buona. 2, Moto G5S e Moto G5S Plus presentati ufficialmente. Lenovo, Motorola è scatenata in questo periodo, dopo aver presentato poche settimane fa Moto Z 2 Play e Moto Z Force Edition, questa settimana sono stati annunciati i nuovi Moto G5S e Moto G5S Plus. Entrambi portano dei miglioramenti rispetto ai G5 e G5 Plus. Tra i due però l'attenzione questa volta è tutta sulla doppia fotocamera di G5S Plus. 3, Netflix approva il Sony Xperia XZ Premium per lo streaming in HDR. Finalmente Netflix ha deciso di rendere disponibili i suoi contenuti in HDR a bordo di Sony Xperia XZ Premium, che tra l'altro è l'unico top di gamma del 2017 a disporre di un display 4K HDR. 4, Con Skype è possibile inviare denaro via PayPal. Chiunque utilizzi Skype da diversi anni avrà notato come negli ultimi mesi quest'app sia profondamente cambiata. Ora addirittura permette di scambiare velocemente denaro tramite PayPal. 5, Huawei MediaPad 10 Lite, recensione del perfetto tablet per il multimediale. Chiudiamo la carrellata della top 5 settimana 32 2017 con la nostra recensione di Huawei MediaPad 10 Lite, uno dei pochi tablet Android economici particolarmente indicati per un utilizzo multimediale. Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica top 5 settimana 33 2017.